Parla tifosi napoletano! Sono tornato per condividere notizie entusiasmanti direttamente da dietro le quinte del Napoli. Prima di immergerci in queste entusiasmanti novità, voglio sottolineare l'impegno del nostro team nel miglioramento continuo per ottenere risultati ancora migliori. Dimostriamo il nostro supporto lasciando un mi piace e iscrivendoti per non perdere nessun dettaglio. Oggi vi riporto le notizie scottanti rilasciate niente meno che da Gianluca Di Marzio, il famoso giornalista di mercato. Il Napoli avanza alla ricerca dell'ala del Brumaut Ahmed Traoré. Questo movimento sta guadagnando slancio e, secondo le ultime informazioni, l'operazione potrebbe essere completata nelle prossime ore. I contatti sono stati intensificati e le trattative sono in fase avanzata. Traoré, noto per le sue doti in campo, potrebbe presto vestire la maglia azzurra. La squadra partenopea è attenta alle occasioni per rinforzare la rosa, e il possibile arrivo di questa ala del Brumaut è una notizia entusiasmante per i tifosi. Concludendo questa entusiasmante notizia, voglio sentire la tua opinione. Da tifosi appassionati, cosa ne pensate di questa potenziale aggiunta al nostro team? Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue aspettative e speculazioni su come Ahmed Traoré può contribuire al Napoli. Oh, e ovviamente non dimenticare di lasciare un mi piace per mostrare il nostro supporto e di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le novità. Forza Napoli sempre!